Contro le numerose fake news che circolano sul web, è nata un'associazione per distinguere i meteorologi professionisti da quelli fai da te, Giorgio Maria Leone. L'uragano Lorenzo non arriverà in Italia e non esiste un'allerta in otto regioni per questo evento catastrofico che altro non è che una bufala meteo, ormai una delle tante che circolano in rete. Tra le centinaia di app sulle previsioni almeno una su due riporta dati del tutto inattendibili, ci spiega Luca Lombroso, puntualmente rilanciati da siti a caccia di titoli roboanti per assicurarsi contatti e introiti pubblicitari. Già adesso si parla del mese di ottobre nevoso, questa è assolutamente infondata dal punto di vista scientifico, altrettanto quando ci sono le ondate di caldo che sono un problema reale, però dire arriva il fuoco dall'Africa, butto così, è fare allarmismo e non fare l'informazione. Poi si portano questi titoli enfatizzati, sembra che la colpa sia dei meteorologi, mentre la colpa non è dei meteorologi, è di siti, di meteo bufale e di organi di informazione che purtroppo per fare notizia riportano queste notizie anziché quelle di noi professionisti. Contro le meteo bufale è nata Ampro, l'unica associazione riconosciuta dal Ministero dello Sviluppo Economico per distinguere i meteorologi professionali da quelli fai da te. Ha definito chi è, cosa fa, che caratteristiche di formazione, di aggiornamento professionale, di deontologia deve avere il meteorologo e il tecnico meteorologo. Tre consigli per districarsi nella rete, consultare i servizi meteoregionali delle ARPA tra i siti privati, preferire quelli che si avvalgono di previsori professionali e per le allerte verificare che provengano unicamente da fonti ufficiali istituzionali.